Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della Homeless Challenge. Allora, prima di andare avanti ci tenevo a dire un'altra cosa dopo la moltitudine di cose dette nell'episodio di ieri. Alcuni di voi mi hanno detto che raggiungere l'appice del successo sarebbe tipo completare questa pietra miliare qua, aspettate che ve la faccio vedere, quella di favolosamente ricca, quindi tipo mettere da parte 50.000 simoleon e guadagnarne 200.000, in realtà avere tipo un patrimonio totale di 200.000, avere una casa che ne vale almeno 100, una cosa di questo genere. Probabilmente sono cose scritte su altri regolamenti. Probabilmente se avessi portato questa challenge nella programmazione settimanale normale del canale, può anche essere che avremmo potuto farla, però io questa challenge la vedo più come una challenge appunto quotidiana per tenerci compagnia durante la quarantena, però per dare un po' di varietà al canale, quindi preferisco farla un po' più breve e un po' più easy peasy, lemon squeezy, come direbbero gli inglesi, insomma un po' più semplice. Quindi vi ringrazio davvero per tutte le risposte a riguardo, ma come vi dicevo nello scorso episodio, arriviamo ad avere una casetta modesta con tutto quello che serve e un patrimonio di 5.000 simoleon messi da parte, intendo quello che figura qua sotto. detto questo, andiamo avanti. Vi avete dato un bellissimo suggerimento, che è quello di mettere un frighetto, quelli piccoli, che ci sono con l'espansione vita universitaria. Quindi compriamolo subito. Questo perché ci può aiutare, tipo questo, forse è questo che mi costa ancora meno, direi di sì, facciamolo così, carino. Questo perché almeno se ci portiamo via le cose da mangiare, tipo questo, da altri scenari o quant'altro, lo possiamo mettere via e non va male. Quindi direi che questa è un'idea che ci sta benissimo. Detto questo, vendiamo tutto, io sto aspettando di, uh, la lotteria! No, raga, adesso giochiamo, tanto abbiamo soldi da spendere per un biglietto. Io stavo aspettando di mettere da parte ancora qualcosina prima di andare a costruire la nostra prima stanza. Questo perché volevo costruirla, diciamo, fra virgolette, per intero e non a tre quarti. Come prima stanza avevo pensato al bagno, soprattutto per il discorso della doccia, perché per quanto riguarda il water possiamo andare anche qua a farla, infatti andiamo, visto che un po' le scappa. Ma per tutto il resto c'è Mastercard, no, per la doccia invece ci può servire avere appunto il nostro bagno. Quindi pensavo, non so neanche più parlare, pensavo appunto di fare quella come prima stanza. Anche perché abbiamo la tenda che ci torna utile per quanto riguarda la questione di dormire, diciamo. Quindi magari la camera da letto la terrei come stanza più avanti. Vediamo se già all'inizio del prossimo episodio possiamo costruire il bagno. Lo costruiamo insieme, visto che non faccio più da un pezzo dei... Aspettate che apriamo qua i fossili. Siccome è da un pezzo che non faccio più speed build, magari lo costruiamo insieme, così vedete anche come costruisco e magari vi faccio vedere appunto... No a rallenti, però sì in tempo reale come costruisco. Perché appunto durante gli speed build mando avanti il video veloce, non parlo durante quella parte, quindi chiaramente è tutto stretto nel tempo e non spiego assolutamente nulla. Inoltre vi avete dato una bellissima idea di andare in città, e ci andiamo subito, a prendere i poster. Non so chi tu sia, ma no. A prendere i poster per rivenderli e appena ci sarà un evento in città, tipo, non so, al Festival dell'Idillio, che però è sabato, se non sbaglio adesso siamo a mercoledì, di andare perché ci sono quei vasi con i semi in giro. Allora, dove andiamo, dove andiamo? In realtà in tutti gli scenari, però andiamo qua come prima cosa perché c'è l'otto palestra e io devo farmi la doccia, quindi direi che partiamo da qua come punto di inizio. Vediamo se riesco a trovare anche... Le docce sono al piano qua sotto, ok. Uomini. Quindi qua. Vediamo se riusciamo a trovare anche quegli scatoloni dove troviamo... No. Dove troviamo le palle di Natale, in modo che le possiamo rivendere. Ci facciamo un giretto in città. Madonna. Se mi accorgevo prima che aveva fame e la facevo mangiare con gli hot dog. Vabbè, vediamo se magari la gente ha abbandonato qualcosa in giro. Mi avete detto che frugando nei bidoni posso trovare cose, chiaramente. Ma perché ha sto cappello che io non le ho mai messo? Scusate. È la divisa di quando ha questo? Cioè, spiegami. Aspettate che le faccio cambiare d'abito, per favore. Anche perché è mezza nuda, fuori è freddo. Cosa ha trovato? Ah, una bacconite. Ok. Beh, aspettate. Qua può rovistare... No. Per trovare elementi, ma no. Probabilmente è solo quando si ripara qualcosa. Ok. Non posso più rovistarci. Quindi cominciamo la ricerca. Ah, legge l'insegna. Vabbè, tu leggila mentre io mi guardo intorno. Così è andato a fare qualcosa. Qui qualcuno suona. Qua non c'è nulla. Qua di sopra abbiamo un altro cestino che possiamo rovistare. Qui abbiamo il banchetto dei cupcake. Vediamo un po'. Sicuramente adesso che ci sono io, fermi l'armadietto con... No! Tutti i poster sono già stati sgraffignati! Non mi interessa quello che c'è scritto. Era per perdere tempo. Stavo dicendo, sicuramente adesso che vengo io non ci sono né scatoloni dove cercare i pupazzi di neve. No, i pupazzi di neve. Sì, perché pensavo alla palla di Natale, quella col pupazzo di neve dentro. Sì, non ci sarà né quello né poster da sgraffignare, come dicono loro. Che palle. Qua è sempre da leggere. Io qua non vedo altro, raga. Beh, c'è questo cestino, però. Ma cosa hai trovato nell'ultimo cestino? Mi sono persa un pezzo. Ma l'hai rovistato? Sì. Però c'è della roba qua fuori. Beh, aspettate però. E buttami via prima questa, che sei là vicino, e dopo vieni a buttarmi via questa. Evidentemente non ho trovato niente, perché se non mi dà niente, non credo che nell'inventario dell'unità familiare ci sia qualcosa. Non credo proprio. Va bene, proviamo ad andare a vedere anche gli altri quartieri, più che altro appunto per il discorso poster e quant'altro. Quindi andiamo in ordine, in ordine anti-orario, andiamo per di qua. No, in ordine orario, no? Anti-orario. Anti-orario sarebbe andare di qua. In ordine orario andiamo al pianeta Carapop e vediamo nei dintorni cosa c'è. Un altro consiglio che mi avete dato, ora che mi viene in mente, è quello di venire in città durante gli eventi, perché ci sono i cavalletti per dipingere e quindi dipingere e rivendere i nostri dipinti. Ma porca miseria, tutti sgraffignati, ma che palle! Quindi sì, è una bella idea, quello lo ammetto. Quindi faremo anche questo, ma in frattempo non c'è ancora nessun evento. Comunque è solo lei la sfigata che rovista nell'immondizia in una maniera disumana. Una parte per aggiornamento comune. Questo è l'appice della nostra giornata, visto che poster sono stati tutti sgraffignati. Lei avrebbe anche fame, qua tutte insegne da leggere. Mettiamo un attimo in pausa, ho visto un cestino anche là in fondo, ora vado. Questo sembra tipo un bancomat. Qua non si può fare niente, neanche qui. Ho nessuna scatola. Qua non si può andare. Nessuna scatola. Beh, vabbè, chiaramente. Una persona sparisce dal nulla. Così noi poi siamo delle persone umane perché poi lo rimettiamo dentro. Lei dovrebbe di nuovo farsi la doccia, chiaramente rovistando dappertutto. No, direi che possiamo mangiare qualcosa. Abbiamo un po' di soldi. non ho voglia di farla tornare a casa. Prendiamo la cosa più economica. Non ho voglia di farla tornare a casa per il semplice fatto che siamo già qua. Ma è la mia roba? Ma mi ha preso la mia roba! Ma siamo seri? Maledetta! Meglio che non ti fai neanche vedere. Se fossi stata Piper della Nozzo Berry ti avrei già utilizzato il raggio laser per congelarti. Maledetta! Ha mangiato a spese mie. Ho speso 20 simoleon per colpa tua. Sei una ladra. Dovrebbero veramente rinchiuderti e buttare via la chiave. Poveretta. Ha bisogno di divertirsi. In realtà siamo anche al al coso karaoke. Quindi potremmo anche farla cantare al karaoke per farla divertire. Tanto è gratis. Quindi non è che spendiamo soldi. Ne abbiamo già... Poster! Poster! È mio! È mio? No! No! Ma di solito il tipo Nonna! Non metteva poster! No! La mia vita fa schifo! Donne! Vieni a lavarti... Vai via dal mio bagno! Sì, parlami delle... Ho premuto lavati i denti due volte. Vabbè, lavati anche i denti che male non ti fa. Sozzona! Oh, guardate come magicamente aumenta tutto. Facciamo la pipì. Addirittura il pannello di controllo. Allora, andiamo a cantare. Cantiamo qualcosa di jazz, no dai, di pop. Fun tonight. Vai via! Canto io! Ecco. Mi sa che intanto si diverta un pochettino perché qua, una gioia, manco mai. Ben va. Bleaky blush. Riempio io i suoi vuoti. Dai, per fare... Ce la puoi fare? Se fossi Veneta, diresti sempre... Ce la faresti. Ma non è che si stia divertendo chissà quanto, comunque. Beh, facciamogliene cantare un'altra. L'altra pop, no? In duetto. Non voglio spartire il parco con nessuno che era Fool's Prayer. Ma adesso questa ti piace. Socialità. A fortuna siamo solitarie. esecuzione perfetta. Ah, per aver cantato male al karaoke. Certa gente non riesce proprio a riconoscere un talento grezzo quando ne vede uno. Cioè, che grezzo, che più grezzo non si può? Tenta a fare le pirouette che ti trovi per terra. Andiamo veloci perché sennò finiamo più. Avete sentita com'è convinta? Sofia ha altre qualità, comunque. Però dai, un po' è migliorato il divertimento. Quindi direi che non è una sconfitta totale. Mannaggia! Mannaggia i poster! C'è qualche altro cestino da rovistare? Non credo che questo... No, infatti. Però c'è questo qua. Cosa ci fa un cestino così qua in mezzo? È normale? Non ci ho mai fatto caso. Allora, facciamo che ti lavi le mani l'ultima volta prima di andare via. Giusto per... Così. Già che ci siamo. E andiamo nel prossimo quartiere. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa nei cestini o... o dei poster. Secondo me poster non li troviamo da nessuna parte. Ho tanto questa sensazione. E mi sono appena accorta di aver lasciato lo zozzo del cestino per terra ma vi arrangiate! Ve lo pulite! E andiamo a questo bar per karaoke. Devo dire che piace un sacco i bar di karaoke. Qua in Italia ce ne sono pochissimi mentre in America e addirittura credo che in Giappone ancora di più i karaoke ne vanno pazzi. Vabbè, in Giappone è nato l'acredor karaoke. Insomma, karaoke è una termine giapponese. Non mi ricordo cosa significhi ma in termine giapponese. Ma in America vanno matti per i karaoke. che qua in Italia non se lo caga nessuno. Comunque, andiamo. Allora, siamo arrivati. Qui c'è qualcosa. Non me lo fa neanche premere. Proprio ho detto hai rotto le balle. Allora, qui abbiamo un cestino quindi andiamo a rovistare. Stavo pensando che quasi quasi... Ma questo non è lo stesso venditore con cui abbiamo avuto a che fare prima. Quando abbiamo mangiato nell'altra bancarella intendo. Questo va di bancarella in bancarella. Cioè, siamo sfigati che nessuno butta via niente. Qua? Ah, non me li fa neanche premere. Scatole pari a zero comunque. Questo è un cestino. Ah, è vuoto. Sono tutte occupate? Sì. Ma io approfitterei per farmi un pisolino su questo divano però. Probabilmente non è il punto ideale. Siccome sta... Ah, ma qua è proprio all'aperto. Sapete che non ci avevo mai fatto caso? Sopra è vuoto. non avevo mai fatto caso a sta cosa. Beh, no. Vabbè, intanto lei dorme. Vediamo se qualcuno si dimentica roba da mangiare qua in cima. Ma sicuramente non ci verrà nessuno al karaoke a mangiare. A mangiare, intendo. Intanto lei dorme in mezzo al casino si sta riposando un picchio però vabbè. Qui proprio non c'è nulla, eh. Ah, non volevo pigiare vieni qui. No, non c'è proprio nulla. Vabbè, senti un po' ti sei riposata. io direi che è ora di andare nell'ultimo quartiere e poi torneremo a casa. Verremo sicuramente quando c'è un evento però volevo fare un giretto comunque. Ah, poi veniamo anche al parco a proposito, vediamo se c'è qualcosa nei dintorni. Ok, arrivati anche qua. Fatemi guardare. Allora, c'è un coso qua dietro ma niente, tutti i poster sono stati sgrefigneti. Cominciamo a rovistare nei cestini una parte di aggiornamento. Vabbè, considerando che le possiamo rivendere direi che insomma. Oh, guardate, quadri. Cosa per fare i quadri. Non che siamo particolarmente ispirati adesso però vediamo come più che altro siamo esausti. Vediamo come gira la faccenda. C'è qualcosa altro. Questo è quello di prima. Sì. C'è un bagno pubblico. Anche qua c'è un coso ma credo che se uno sia vuoto siano tutti più che altro lei è esausta. Ok, la lotteria ha avuto successo una raga. Se vinciamo la lotteria rido fino a domani. Guardavo se c'era un divano dove farla dormire qua da qualche parte ma proviamo a farle fare un pisolino qua. giusto per farla riprendere un po'. Nel frattempo noi vendiamo tutte ste cosine. La rana cos'è? Comune. Voi mi consigliavate di tenere le rane rare o non comune e farle accoppiare fra di loro. chiaramente vi vengono fuori cose che costeranno di più. No, mi sa che stiamo perdendo tempo a farla riposare qua. Però non c'è un bagno da... Sì, su sto coso c'è un bagno più che altro perché volevo farle recuperare un po' di igiene senza doverci fermare anche in palestra. e cose di questo genere quindi facciamole lavare le mani compulsivamente. Qui possiamo mangiare qualcosa. Uffa, il caffè me lo devo preparare io. Qui non c'è non c'è nulla. No, di preparato no, non c'è nulla. Uffi. Uffi, uffi. Qui nessuno si è dimenticato qualcosa. Ah, guardate sto tizio quanta roba vende. Visualizza l'inventario non posso fregargli niente? No. Però sto qua le vende tutte ma sicuramente le vende ad un prezzo che se anche io le compro e le rivendo o pareggio addirittura vado in perdita. Facciamo l'ultimo pit stop al parco quello sempre qua a San Maishuno vediamo se magari qualcuno ha dimenticato qualcosa da mangiare e dopo andremo a casa anche perché poveretta ha bisogno di dormire. Ok, ci siamo. Figurarsi se qua qualcuno ha dimenticato qualcosa qua poi è tutta roba finta quindi benon 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 però possiamo dare un'occhiata a vedere se troviamo delle piante posso rubarli? No non posso rubarli peccato perché se no li rivendevo no credo che qua non ci sia assolutamente niente comunque mi avete mandato anche la lista di dove si trovano le varie piante sì utile fino a un certo punto nel senso che chiaramente adesso con la scusa che c'è stagioni la crescita delle piante è influenzata dalle stagioni quindi anche sapere dove sono dovrei poi sapere a che stagione appartengono quindi tanto vale che mi faccia un giro proprio letteralmente per i fattacci miei e lo scopro da sola diciamo mettiamo in pausa un attimo ma su sto lotto stavo pensando niente poste l'abbiamo capito su sto lotto non c'è un letto ma guarderò adesso guardo prima finire il giretto panoramico in modo che magari stavamo qua guardate che bella zona io probabilmente scopro l'acqua una pallina di di sì di legno una pallina di vetro corri corri a prenderla non so neanche quanto distante siamo e dai pensavo peggio non abbiamo una camera da letto qua no camera da letto no ma abbiamo dei bei divani che mi sembrano costosetti potremmo sfruttarli sicuramente il bagno per farci il bagno lo possiamo sfruttare quindi torna qua fai la pipì e poi ti faccio dormire volevo farti dormire proprio su questo divano qua dove c'è questa signora ammiratrice sicuramente non nostra ah beh vuoi mettere rispetto al divano qua è molto più comodo c'era anche passata cos'era Brittany Chang come si chiama ma non eravamo in grado di seguirla per l'autografo anche perché se non ce lo dava subito l'autografo ciaone cioè nel senso chi aveva la forza oh uffi sarebbe stato un colpaccio raga in due episodi avremmo finito la challenge addio facciamole fare il pisolino qua socialità ne ha bisogno veramente tantissimo non so quanto ci metterà a fare il pisolino almeno rendiamola facciamola arrivare a un livello recuperabile poveretta comunque qua intorno non mi sa che non c'è nulla null'altro vabbè pesca io intanto guardo raga gente che condivide mentre io registro come al solito cioè qua c'è una rana che per carità volendo possiamo farle cercare ma ha un sacco bisogno di dormire lei no raga credo che uh un'altra palla credo che la farò tornare a casa dopo che mi ha preso ste due cose un poster adesso ci sono cos'è devo tornare indietro su tutti chiaramente continuiamo a condividere io non sto registrando no no è un'illusione è un'illusione ah forse ce n'è una anche qua sì probabilmente sverrà sette otto volte nel frattempo fra quanto mi svieni due ore oh è un continuo sta condivisione poveretta non so se ce la facciamo a farle fare tutto eh dai sgambetta corri hop dai uno è qua vicino non so se no al prossimo non ci arriva vabbè raga dai torniamo a casa faremo un giro un'altra volta guardiamo il bottino abbiamo questa comune che io venderei questa che è rara ma non è che possiamo farla accoppiare questo poster che è comune quest'altra non comune questa comune e questa vabbè non comune io piuttosto magari tengo le rare allora andiamo avanti ancora un attimino col tempo poi le facciamo fare le ultime cose prima di terminare l'episodio avrebbe bisogno anche di lavarsi poveretta allora raccogliamo tutto qua di questa pianta mi sa che forse anche qua raccogliamo le margherite anche di quella per rivenderle chiaramente e veniamo a mangiare dovrebbe essere ancora buono sì ancora per un po' niente non me lo prende come mai te lo metto fuori stai zitto così ce la fai ok molto bene intanto vendiamo questi e vendiamo questi vedo un'altra roba sbrillucicare la pianta qua in mezzo cos'è erba strofinata sì possiamo piantare una roba nuova ma raga l'ho vista solo perché sbrillucicava se no col picchio che l'avrei vista veramente dove sto andando ho premuto tutti i tasti sbagliati ok piantiamo anche questa qua davanti io comunque tendo a piantare una pianta per specie per come si dice per tipo è vero che si fa prima piantarne tante ma le abbiamo qua nei dintorni bene o male quindi in più sono di stagione al momento quindi comunque crescono e ci fruttano piuttosto mi faccio il giretto tipo così e raccolgo quelle che trovo e le vendo senza per forza dover riempirmi il giardino di cose questa cos'è fragole ok raccogliamo anche le fragole le abbiamo trovate qua ma non nella not so berry sembra quasi un gioco del destino poveretta deve anche lavarsi abbastanza disperatamente allora torniamo a casa io volevo fare appunto le ultime due cose due quindi piantiamo le fragole queste le vendiamo intanto estraiamo il fossile allora innaffiamo anche questa vendiamo tutto ah butta via anche il piatto non c'è si serve il lavandino ce lo mettiamo piatto ce lo mettiamo se riuscissi a prenderlo ce lo mettiamo in inventario il primo cestino se ci ricordiamo lo buttiamo via e magari prima di iniziare il prossimo episodio la mando un attimo in palestra e la faccio lavare poveretta perché mi fa una pena infinita quindi io al momento vi lascio qua lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti